Si parla tanto di sostenibilità di prodotti, processi, servizi, ma che cosa si è già realizzato in Emilia-Romagna nei diversi settori, come valorizzare queste esperienze e come promuovere la collaborazione tra i soggetti che le praticano. Dal 2002 la regione Emilia-Romagna ha avviato la vetrina della sostenibilità, un progetto che raccoglie, organizza e fa conoscere le buone pratiche di sostenibilità esistenti e mette in relazione chi le realizza. La vetrina dà visibilità alle migliori esperienze di imprese, enti pubblici, scuole, associazioni presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna e non raccoglie solamente prodotti, ma anche comportamenti, processi, servizi e attitudini che hanno un impatto misurabile di sostenibilità. Ogni buona pratica viene descritta utilizzando degli indicatori che quantificano concretamente l'impegno per lo sviluppo sostenibile e i risultati conseguiti. Il progetto è promosso dalla regione Emilia-Romagna insieme ai principali attori socio-economici del territorio, con il supporto tecnico di Eico & Deco, società che si occupa di economia ed ecologia. Sono oltre 350 le buone pratiche di sostenibilità censite nel database della vetrina. Oltre 200 i soggetti titolari, imprese grandi e piccole, associazioni, enti locali, scuole e università. Le buone pratiche sono raggruppate in sezioni, settori ed aree tematiche e sono consultabili comodamente grazie all'efficace motore di ricerca presente nel sito. Per poter essere inserita nel repertorio, una buona pratica deve aver prodotto dei risultati, essere innovativa, potenzialmente trasferibile e continua nel tempo. Sono inoltre essenziali i dati quantitativi che descrivono risvolti ambientali e ricadute sociali della pratica. Di norma sono gli stessi i soggetti titolari delle buone pratiche ad autosegnalarsi, anche se un ruolo fondamentale di antenna è svolto sul territorio da comuni, province, associazioni e centri di educazione ambientale. La scheda di candidatura proposta viene vagliata dal gruppo di lavoro e una volta verificati i requisiti, grazie anche alla rete dei partner, viene inserita nel repertorio online all'interno del sito della vetrina. Una volta nel progetto, il vantaggio è quello di essere all'interno di un contenitore istituzionale dinamico, che offre una rete di relazioni e una serie di occasioni per confrontarsi e comunicare il proprio impegno. Ma il processo di adesione consente anche una maggiore consapevolezza del proprio impatto e fornisce indicazioni per eventuali ulteriori miglioramenti. Sul sito si può inoltre consultare lo Spazio News, che informa su nuove azioni e iniziative dei soggetti aderenti, lasciare propri annunci di sostenibilità sulla bachica virtuale e accedere attraverso la bottega della sostenibilità alla ricerca di prodotti e servizi della vetrina. E se avete una nuova idea, potete cercare un partner nello spazio dedicato. È possibile anche ricevere una newsletter mensile dedicata al progetto. Inoltre, la collaborazione con il progetto regionale L'Ambiente Silaurea consente di connettere maggiormente il mondo delle istituzioni e delle imprese con quello della ricerca, attivando scambi, collaborazioni e tirocini. Infine, la vetrina non è solamente un sito e un database, ma anche un insieme di iniziative dove i diversi soggetti aderenti possono conoscersi, incontrarsi, scambiare idee e diventare una vera e propria rete, flessibile e informale, ma che ha in comune uno stesso obiettivo. Visitare la vetrina permette di scoprire le iniziative sostenibili sviluppate nell'interesse dell'intera comunità e, perché no, trovare spunti interessanti e utili collaborazioni.